Ore di passione per automobilisti e camionisti in viaggio oggi sulla A4 tra Venezia e Padova. Poco dopo l'ora di pranzo sullo svincolo per la Padova-Bologna c'è stato un incidente tra due mezzi pesanti. Lo svincolo è rimasto chiuso dalle 13.40 fino alle 16.30 per la rimozione dei camion. Traffico deviato verso l'uscita di Padova-Est con inevitabili code che nel corso del pomeriggio sono diventate fino a 8 km di lunghezza. Uno dei due autotreni trasportava Cherosene perciò i vigili del fuoco hanno chiesto per precauzione di far bloccare brevemente il traffico in entrambi i sensi di marcia e in direzione Trieste le code hanno così raggiunto i 10 km.